benvenuti a tg metallo l'unico telegiornale in italia assolutamente 100 per cento covit free e 100 per cento fatto di metallo allora partiamo subito con le notizie dagli esteri e abbiamo in realtà solo notizie dagli esteri per questa prima puntata si parte con striper gli striper escono il 4 di settembre con l'ennesimo nuovo lavoro intitolato even the devil believes ok il precedente era un po nye nye non era malaccio nel complesso god damn evil mi si intitolava se non mi ricordo male c'aveva un pezzo che avevano messo fuori ai tempi che faceva stra cagare il resto del disco era nel complesso pienamente striperiano ho dato un ascolto al lavoro e un buon lavoro nel complesso gli striper sono diventati secondo me un po più anacronistici rispetto a molti con i de quegli anni però nel complesso l'ho trovato comunque molto più fresco muscolare bello sparato molto spesso e meno frignone rispetto ad altre cose che hanno fatto li apprezzavo agli striper ovari dischi loro mi sono fermato a no morel to pay poi meno frignone perché appunto è più più frizzantino più più veloce più anche un po più gazzuto onestamente nel complesso credo che sia un disco che possa piacere sicuramente ai fan della band e basta nel complesso ai fan del class metal a cui comunque ci hanno sempre abituati gli striper comunque ci sono delle discrete mazzate per i loro canoni per lo meno per il loro canoni un po più un po più recenti sicuramente è il disco forse un po più classico degli ultimi che che hanno fatto zero modernismi suoni assolutamente super classici e tanti dei rifetti ecco ci sono dei rif assolutamente niente male e mi pare di ricordare che ci sia solo una balla e meno male perché le balla degli striper fanno cascare le palle passiamo avanti e cambiamo assolutamente genere perché parliamo dei l'attesissimo ma cosa dico attesissimo per un cazzo atteso nuovo disco dei six feet under perché la band di chris burns ha rilasciato un pezzo nuovo che si chiama amputator estratto dal nuovo lavoro appunto nightmares of the decomposed in uscita a ottobre per metal blade il pezzo fa cagare fa scorreggiare gli ornitorinti proprio una roba allucinante premesso che non sono un fan della band mai stato nemmeno i primi dischi che la gente dice ah ma dai tutto sono i primi dischi no mi facevano cagare pure quelli ho salvato solo undead dove all'improvviso sembrava che si ricordassero come come scrivere dei riff come suonarli una cosa strana era successo quell'anno e poi gli è passata subito comunque non sorvoliamo su quella merda dei graviar classics e arriviamo quindi a nightmares of the decomposed allora amputator bu che cazzo il pezzo è un pezzo alla six feet under un pezzo moscio i six feet under non sono mai stata una band potente ma manco per il cazzo e c'è quel riffing lì ma la cosa assolutamente assurda di un pezzo come questo è la voce di chris barnes che è andata letteralmente a puttane sembra un barbone che si lamenta e borbotta perché gli hanno rubato il suo sandwich al formaggio una cosa terrificante assolutamente sgolato non ha più profondità e non so perché insistano così tanto a tornare e non so perché la metal blade ancora ci spenda soldi per promuoverli robe dell'altro mondo ma passiamo a robe belle death metal perché il 4 di settembre è uscito il nuovo disco di desolator secondo full lente dopo un earthly monument primo full lente e un ep del 2016 che non mi ricordo come si chiama il nuovo disco si chiama sermon of apathy esce per è uscito per black lion records perché vi segnalo questo gruppo perché ho sentito un po il disco e mi pare francamente una figata colossale figata colossale perché un death metal cazzuto lovecraftiano copertina molto lovecraftiana si sono fatti allora già i dischi precedenti lavori precedenti non erano affatto male per caso che sono stati cagati da poca gente ma qui fanno probabilmente un salto in avanti sia a livello di suoni che diventano grossi pachidermici gigalitici monumentali e diventano molto 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 più epici sembra di sentire a tratti i sul furion quelli più sparati c'è l'epica dei c'è qualcosa di morbidenge chiaramente ma l'epica si effettivamente quella un po dei sul furion meno melodici meno smaccatamente melodici come dei sul furion è sempre un po più death metal in questo senso ma alcune cose alcuni alcuni rift alcune atmosfere questo disco che gioca sicuramente tanto sulle atmosfere sono molto simili ospite carl sanders nell'ultimo brano per una solo e ragazzi date un ascolto perché se vi piace il death metal cazzuto se vi piace il death metal ben composto ben concepito e soprattutto assolutamente debitore dei grandi antichi sermon of apathy è un disco che fa è il disco che fa per voi e secondo me entrerebbe potrebbe entrare nella top ten di molta gente onestamente quest'anno poca roba mi ha stupito tantissimo nel death metal questa è stata in realtà una bella sorpresa al ritorno dalle vacanze passiamo di nuovo a parlare di un po di heavy metal perché gli ex vi ricordate gli ex quel gruppo americano che negli anni 80 metà degli anni 80 ha rilasciato due dischi più o meno cult no escape e under the spell escape si chiamava perché tra l'altro non me lo ricordo a volte faccio fatica e tra l'altro ce l'ho pure vabbè comunque quei due dischi lì uno dell'84 mi pare uno dell'85 che erano sono diventati più o meno dei cult dopo di che sono impazziti e si sono messi a fare una specie di death trash che nessuno si è cagato ma proprio malissimo proprio male 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 e tornano tornano ha deciso che pure loro tornano e il 25 di settembre uscirà per la high roller entangled in scene che vede un ritorno le sonnosità ovviamente più classiche potete ascoltare un brano online vultures gather around il pezzo è così così ok è un pezzo che in realtà è un cazzo devo essere sincero c'è un sembra un po un ritorno under the spell ma è un po un downgrade di under the spell nel senso che non ha la potenza non ha il piglio non ha la cazzimma di under the spell e ciao un qualche cosa di tre scettone nel nell'andamento la voce non mi convince perché non è né quella voce squillante di dennis manzo best nome ever nella storia del metal che trovavamo nel primo disco e non è nemmeno quella voce un po più incazzosa ma comunque melodica una sorta di dio super arrabbiato che trovavamo in under the spell e una voce molto acida un po di exodusiana memoria che non mi convince perché a prescindere almeno non fa impazzire quel tipo di timbro non dico che pezzo faccia cagare ma non è nemmeno una roba per cui strapparsi i capelli abbiamo assistito almeno sembrerebbe al momento perché il disco bisognerà poi ascoltarlo 25 di settembre sembrerebbe un ritorno non particolarmente interessante ma pronto a ricredermi non appena uscirà l'album torniamo a parlare di death metal con skeletal remains che hanno rilasciato un altro pezzo questa settimana this this ecstasy ora magari se si fermano è meglio perché ora che esce il disco settimana prossima l'undici di settembre per cento rimedi e praticamente abbiamo già sentito tutti i pezzi il disco si chiama the entombment of chaos l'ho ordinato e l'undici sarò già al negozietto ad aspettarlo perché perché this ecstasy che ho ascoltato solo per due minuti e poi dovuto spegnere perché se no mi esaltavo troppo sembra l'ennesima conferma del fatto che gli scheda rimane forse con il tormento in chaos faranno il loro disco migliore hanno preso e lo provano anche i pezzi che avevano già messo in precedenza online hanno preso il l'influenza di morbid angel e l'hanno portata alle estreme conseguenze eliminando quasi tutte le altre influenze e quindi si gode tantissimo è perché loro si rifanno tanto il periodo covenant francamente mi sa chi sarà un signor disco ma ditemi chiaramente la vostra skeleton remains la settimana prossima 11 di settembre cento rimedia di entombment of chaos passiamo passiamo poi di nuovo a un po di heavy metal classico perché il 16 di ottobre per sintomi media gli americani spirit drift rilasceranno enlightened in eternity terzo full length per la band dopo l'ottimo divided by darkness che usciva nel 2018 mi pare 19 bella domanda non mi ricordo più come passa il tempo vabbè usciva per 20 bucks pin ed era un disco molto interessante un disco che miscelava tante cose anche a volte lontane fra di loro qualche cosa di doom qualche cosa un po più psichedelico un new wave of british heavy metal ed erano molto 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 convincente un disco affascinante potete ascoltare la nuovo il nuovo pezzo harmony of the spheres che è un buon pezzo un po meno spirit adriftoso rispetto a quello che ci hanno abituato se non più che altro nell'ultima parte del pezzo dove effettivamente si sentono si sentono gli spirit adrift dei dischi precedenti il pezzo comunque buono è una bella cavalcata metallica ci sono dei buoni riff la voce rimasta sempre molto particolare e c'è da sperare che la sintomi media non sputtani la band andando a rovinare quello che tutto là il fascino della band questo sound molto particolare aspettiamo vedere comunque il 16 di ottobre avremo modo di farci un'idea migliore detto questo secondo me meritano sono le band che merita assolutamente un ascolto e la nostra attenzione e si torna a parlare di death metal direi anche purtroppo sto giro perché parliamo dei carcass che tornano con un nuovo pezzo del living dead at the manchester morgue estratto dalle pd speakable in uscita il 30 ottobre tramite nuclear blast e nuclear blast ragazzi possiamo farci un cazzo niente il pezzo è un po no 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 ragazzi non lo so non mi ha convinto per un cazzo a parte un riff a metaverano tutto il resto io l'ho tratto moscissimo spompato un lavoro da fare tanto per una e francamente una noia mortale una noia mortale e anche un pazzo e no come essere assaliti da gattini ciechi senza artigli cuccioli tra l'altro per cui no no non lo so vediamo a parte il fatto che i carcass bu non lo so io il disco del comeback sargi castello anche ascoltato l'ho anche comprato ascoltato un paio di volte anche più di un paio di volte ma c'è una parte centrale buona in quel disco nel complesso ma ma poi vedi che alla fine rimane rimane sullo scappare a prendere la polvere e non credo che comprerò questo nuovo ip devo essere molto sincero il pezzo è una palla una palla mostruosa con le solite cavalcate no no ragazzi no no però ditemi la vostra magari a voi piaciuto è per carità siamo amici lo stesso assolutamente l'importante è parlare di heavy metal e concludiamo questo primo episodio di tg metallo con un'altra segnalazione perché in data sempre 4 settembre è stato rilasciato dalla band e potete acquistarlo e ordinarlo direttamente dal sito della band sto parlando di cobra spell è uscito il loro prim epi di desordio love venom bene allora i cobra spell sono una band diventata relativamente conosciuta in breve in breve tempo perché è stata formata da ansonia anubis nussender conosciuta per il suo lavoro nelle burning witches alla chitarra e da sebastian silva sempre chitarra nonché suo uomo nella vita chitarra dei dei idolans fanno un class metal anni 80 che anni 80 non si che più anni 80 non si può ho sentito l'epi allora a me il class metal di quel tipo tende un po rompermi le palle devo essere sincero non mi prende così tanto come altri cittadini però è una cosa prettamente di gusti non è male anzi secondo me è un epi estremamente ben curato quattro brani ci sono quelle ritmi che a cavallo proprio fra le v metal e l'hard nevi anni 80 con un po di un po di attitudine air metal nei coretti nei ritornelli è un disco molto sexy parliamoci chiaramente ci sono c'è una grande attenzione ai suoni la scelta di suoni c'è una grande attenzione nelle armonizzazioni se vi piace il genere i cobra spell sono sicuramente il gruppo che fa per voi se vi piacciono ad esempio anche un po i kiss di quel periodo un po alla liquida anche un revenge eccetera eccetera no kiss un po quando non si mascherava c'è anche un po quel gusto lino un po più metallico chiaramente ma potete ritrovarli quindi cobra spell love venom il loro ep e lo potete ascoltare chiaramente online ma lo potete trovare ovviamente sul sito della band quindi con questa notizia si conclude la prima puntata di tg metallo fatemi sapere cosa ne pensate di quello di cui abbiamo parlato oggi e ci vediamo la settimana prossima per gli aggiornamenti